Si va verso una positiva risoluzione per quel che riguarda l'avvertenza allo stadio del nuoto di Chieti con gli istruttori della Sportlife senza stipendio dal mese di gennaio. Questa mattina è in riunione tra una delegazione degli 11 dipendenti Sportlife e il consigliere comunale di Chieti Marco Russo in qualità di segretario provinciale della Confsal. Proprio dalle sue competenze in materia sindacale è emersa una possibile risoluzione per aggirare l'ostacolo costituito dalla difficoltà da parte della Sportlife amministrata da Vincenzo Serraiocco sotto costante controllo dell'agenzia delle entrate di pagare le spettanze. Si è già proposto sia alla società Sportlife che alla teatro di servizi un accordo per una questione di problema di pubblico servizio di risolvere la questione cercando con i soldi che la teatro di servizi incassa per la piscina di poter pagare direttamente gli istruttori così da sbloccare questa situazione che non è un'immagine buona della piscina di Chieti, del comune. Considerando il fatto che i soldi ci sono, quindi è solo una questione burocratica, ho messo a disposizione un mezzo che è quello di un accordo tra le due società e i dipendenti a che si paghino direttamente le spettanze ai dipendenti tramite la teatro di servizi senza passare per la Sportlife. Devo dire la verità, anche la Sportlife il presidente è stato d'accordo subito, quindi anche lui cerca di risolvere la problematica anche per un'immagine della stessa società, del comune e della piscina. Sembrano orientati ad accettare l'accordo gli istruttori della Sportlife anche se preferiscono non esprimersi fino a quando non vedranno nero su bianco. Lo stesso Carlo Festa, presidente di missionario della teatro di servizi, si è detto disposto a intraprendere questa strada quantomeno per scongiurare l'interruzione del pubblico servizio, visto che le attività ad oggi sono ancora sospese. Una volta firmato l'accordo, nel giro di una settimana partiranno i pagamenti degli stipendi da gennaio ad aprile in attesa del nuovo bando per l'affidamento della gestione che dovrebbe partire tra un paio di mesi. Il prossimo mese si andrà avanti con un bando europeo già stabilito e già sui tavoli dell'amministrazione comunale.